Ragazzi ben ritrovati sul mio canale, come spero si noterà dalla qualità del video ho cambiato fotocamera ho una fotocamera più consona alle mie esigenze approfitto di questo video per introdurre un sondaggio, mi sto avvicinando al fantasy e quindi visto che per me è una nuova sfida, volevo sapere se eravate interessati all'apertura di una nuova sezione nel mio canale, dal momento che sto imparando a colorare, il nuovo topic sarà un po' diverso dal solito non ci saranno delle dritte al 100% per progredire ma vedrete il mio progresso se ci sarà infatti le opzioni sono due, o faccio questa cosa per me in privato e pubblicherò i risultati se soddisfacenti e accettabili, oppure apro questa cosa qui dove tutti possiamo darci dei consigli e perché no invitare anche persone esperte in questo settore per coinvolgerci tutti con i loro consigli e progredire tutti insieme mettete nei commenti la vostra opinione vediamo cosa salta fuori, intanto io comincio poi vediamo se viene una schifezza me la tengo per me e buonanotte al secchio aspetto il vostro riscontro sotto nei commenti vediamo, ci vediamo più avanti e intanto mi... intanto un cazzo ciao